Buon pomeriggio, eccoci nuovamente qua, anche perché volevo chiarire un aspetto importante. Mi sono arrivati messaggi, così mi hanno riferito, che mettono il dubbio il fatto che io sia bloccato su Facebook e quindi io ve lo volevo dimostrare. Questo è il mio cellulare, lo apriamo, vi faccio vedere l'orario, sono le 16 e 13, adesso lo vado a sbloccare, lo vado a sbloccare, entro su Facebook e vedete appare impossibile connettersi, tocca per riprovare, io tocco, non succede niente, non riesco a entrare, impossibile connettersi, questa è la mia pagina Facebook. Torniamo indietro, magari rifacciamolo, Facebook, eccolo qua, impossibile connettersi. Quindi come avete visto, da ieri sera io non posso connettermi con Facebook, Facebook ha anche il mio numero di cellulare, quindi può contattarvi nel momento in cui decidesse di sbloccarvi, non ho ricevuto ancora nessun messaggio e da ieri sera che io sono bloccato. Con questo io vi ringrazio e ci vediamo lunedì.